Musica Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di poter transitare di nuovo, anche se solo a senso unico alternato, su via Benedetto Crucio e dopo la frana che ha diviso in due la principale arteria di collegamento tra Salerno e Cava dei Tirreni e Vietri sul mare. Una difficoltà di infissione dei chioti, legate alla fragilità della roccia in alta quota, ha rallentato l'intervento di messa in sicurezza da parte dei geologi rocciatori dell'impresa Cardine, arrampicati da 15 giorni sul costone roccioso. Questa mattina l'assessore alla mobilità del comune di Salerno, Mimmo De Maio, ha compiuto un sopralluogo sul cantiere promettendo che il problema sarà risolto entro la fine della settimana. Se il tempo inoltre continuerà a sostenere i lavori, il cronoprogramma dovrebbe essere rispettato e dentro un mese si potrà assistere alla riapertura totale. Noi aspettavamo che si potesse aprire per oggi perché i lavori stanno andando avanti speditamente, hanno lavorato anche nel fine settimana. Purtroppo la natura della roccia sta creando difficoltà per la fase di perforazione che sta avvenendo in quota, quindi bisogna andare con molta calma perché la roccia è friabile. Questo lavoro sta portando via un po' più di tempo, speriamo, è auspicabile che possa essere riaperta la strada a senso unico alternato per il prossimo fine settimana, per questo fine settimana. Intanto ieri c'è stata questa sentenza del TAR che ha in qualche maniera chiarito la proprietà e a chi spetterà a pagare i lavori della messa in sicurezza del costone roccioso dando torto al ricorso presentato dai proprietari della montagna. La famiglia Caiafa, che significa questo per il comune di Salerno? Questo fa riferimento ad una situazione analoga che si è registrata qualche anno fa. sono lavori che noi comunque, anche come questi, allora sono stati eseguiti in danno. Per fare questo c'è bisogno di una procedura tecnica e amministrativa. Il TAR ha dato ragione al comune, sancendo che l'iter è corretto e quindi crea una prospettiva rispetto alle attività di danno che sono state richieste all'epoca dall'amministrazione comunale. Come si sta finanziando questo lavoro in questo momento? Al momento questo lavoro nasce sull'accordo fatto dall'impegno della regione su fondi dell'ambiente e anche con il raccordo della provincia che ha curato la prima fase di indagine e poi la fase di esecuzione curata direttamente dall'amministrazione comunale. Assessore, dall'apertura a senso unico alternato all'apertura completa quanto tempo passerà ancora? Dai primi studi e proiezioni fatte, dopo l'apertura a senso unico alternato c'è bisogno perlomeno di 30 giorni auspicando sempre le condizioni meteo favorevoli che non ci siano sorprese durante l'attività e quindi dopo 30 giorni avere la possibilità di fruire l'alteria nella sua interezza.